Musica Ancora una serata dedicata agli anziani a Vallo della Lucania ieri sera i arzilli nonnini si sono ritrovati presso il palco della musica panini col soffritto, dolce e spumante per festeggiare insieme l'arrivo del nuovo anno e dopo il brindisi augurale tanta musica per i balli di gruppo Musica Ad animare la serata organizzata dall'amministrazione comunale la simpatia di Franco Di Donato e Rosaria Gaudio Prossimo appuntamento il 15 febbraio con il ballo in maschera Musica 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 Musica